Ciao ragazzi, oggi ci troviamo sul computer di Jimmy, cioè la continuazione Residence Maseca. Solo che non l'ho potuto fare perché era praticamente così. Un pacco? Apriamolo. Che ci sarà dentro? Allora. Questo è un pacco. E dove l'ho metto il vostro pacco? Secondo me è un pc. E mettiti. Inserisci. Dove l'ho metto il vostro pacco? Bene, inizio a giocare. Bene, e poi qui dentro che potrà essere? Ah, lo devo metterlo qua. Che imbecile. Allora. Fa un culo, va bene. E' miglia. Sono andato a casa del mio amico. Per questo non ho fatto video tutta la giornata. Per questo non ho fattoівку. Mi�� iscriviti. E' migliaggio di antropoli. E' migliaggio. E' migliaggio. E' migliaggio. E' migliaggio. E' migliaggio. ok questo non lo mettiamo al doro aspetta mi metto nella finestra non fa schifo ecco non ci sono mettiti nella finestra vaffanculo minghia che cazzo è successo ah se vai a letto diventa ma tu cazzo è notte si mesce pure sereno di sereno sereno ma l'avevo visto pure perchè perchè ok poi ci fare un video con olaide va se ci entra bene quindi andiamo a dormire ci ha permotto per inserire mettiti nel gruppo con olaide ma ovviamente chi mi si è buggato non sono potuto entrare mi spiace olaide poi entro tranquillo olaide perchè io stavo premendo tantissime volte ho fatto così solo che non ci sono riuscito vediamo una chat chi cazzo è 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 qua tutta se i pacchi sui shirt vengono subito pensami un'ora che cazzo chi si è rotto gian alla puttana che cos'è questo vabbè bene ora questa è la scatola Questa è mia Aspetta Romano Voglio dormire Buonanotte Oh e voglio dormire Ah quando ti dite Dunque La serena di Siren Man Siren Man Iniziamo a essere i volumi Ecco Non mi spaventate Perché non vi faccio spaventare Perché se non vi spaventate Io non voglio Ve lo faccio apposta Però Devi spaventare E poi perché ti svegli Tante volte Alla notte E si è baggato No 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 Voglio comprare Il cazzo Eh we good Ora sono arrivati milioni di pacche In un minuto 1 2 3 4 4 4 Cioè poi come ho fatto Se non Ero nemmeno tipo Un corso Un corso Cioè per ordinare Il mio compito Cosa è sta freccia Vabbè È stato il telefono Non è stato un corso No Non è stato un corso Guarda io se faccio e le alcuni ecco come sempre sentite haid ti senti di nuovo al sicuro giorno 2 ma perchè giorno 2 neanche se non è che poi spendo ma che cazzo ma che cazzo e vabbè ma si si ma si è buggato sediti ma mi è arrivato ma che cazzo ma mi sei buggato o accenditi e accenditi computer e lì che mi ha zerzo intanto lo togli il video va bene comunque se vi è piaciuto il video lasciate like va bene ok 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 ok